bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi parliamo di un sacco di novità per il futuro di fortnite e soprattutto per questa settimana vedremo tutte le nuove immagini dei nuovi dei nuove location che sono uscite parleremo anche del prossimo dislivello dell'acqua ma andremo a vedere anche gli eventi della settimana e l'uscita del ballo renegade prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e volevo fare una panoramica di tutto quello che è successo da sabato a domenica in poche parole sabato si è abbassato siamo entrati nel quarto livello di acqua e come vedete alcune location sono riemerse la prima ragazzi è la villa quella proprio in fondo alla mappa dove c'era il vecchio campo merluzzo come vedete adesso è completamente accessibile ma andando avanti la grandissima location che è riemersa dalle acque è ovviamente rapide e rischiose ve l'avevo già fatto a vedere qualche settimana fa in un anteprima di gameplay ma adesso invece potete completamente accedervi e come vedete ragazzi tutte le macchine sono sparse alcune alcune parti di loot sono state modificate e insomma è tutto buttato all'aria ma la cosa interessante è che finalmente è possibile passarci attraverso un nuovo punto di drop ad esempio per le arene andando avanti ci sono delle altre panoramiche di rapide ma comincia anche a riemergere la vecchia foresta frignante già dalla fase numero 3 dell'abbassamento dell'acqua alcuni forzieri sono tornati disponibili nei sottotetti delle case adesso invece è molto più evidente la cosa e la cosa molto particolare è anche il movimento di questa barca ragazzi perché questa barca ogni update oppure ogni volta che il livello dell'acqua cambia si sposta e se ne va in giro per la mappa adesso è veramente molto vicino alla riva siamo come vedete sotto di me c'è la grande il grande barilotto di slurp del vecchio pantano palpitante ci trovate anche la barca che è comunque bella piena di loot trovate almeno dentro 45 forzieri e un sacco di scatole di munizione oltre che appunto legno e metallo staremo a vedere se questa barca la vogliono far girare così intorno alla mappa oppure avrà un significato importante per quanto riguarda la season e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche delle nuove informazioni abbiamo un'immagine della mappa che dovrebbe essere fedele a quella che arriverà con le prossime fasi dell'abbassamento del livello ed eccola qua ragazzi come vedete ricca di dettagli ma purtroppo senza i nomi delle location dovrebbe essere la prossima fase della mappa e devo dire che comincia veramente ad essere molto più bella di quando abbiamo iniziato a intraprendere il nostro percorso in questa season 3 le terre emerse sono davvero tantissime cominciano a confluire verso il centro tutti i fiumi cominciano insomma a rimettersi al loro posto tutte le varie location mi piace veramente tanto questo invece è un altro tipo di immagine come vedete per farvi capire meglio quanto si sono risollevate qua la vediamo proprio in versione azzurra ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché siamo nella settimana centrale di luglio e ci sono tantissime novità innanzitutto il 12 quindi ieri epic games è tornata al 100% a pieno regime sono terminate sono terminati i giorni di vacanza per il team quindi si riparte ricominciano gli aggiornamenti e ci aspettiamo mercoledì oppure martedì la patch 13.30 settimana scorsa abbiamo saltato dovrebbe arrivare un bel po' di roba anche e soprattutto relativa al discorso di Aquaman contro Black Manta e si ragazzi perché venerdì il 16 è la data prefissata per l'arrivo di di Aquaman e probabilmente l'arrivo appunto di Black Manta entrambe le skin o meglio Aquaman l'abbiamo già vista perché è praticamente spoilerata da inizio season mentre Black Manta ne abbiamo solo visto il contorno sappiamo che ha un piccone doppio con le spade sappiamo che ha anche un backpack non siamo sicuri però ancora di come sia in game sabato invece sabato 18 luglio entreremo nuovamente in un nuovo livello di abbassamento delle acque quindi riemergeranno un sacco di location in più e il 21 luglio invece l'arrivo ufficiale dei veicoli quindi ragazzi una giornata davvero importante un mese davvero interessante che chiude con la Galaxy Cup il 25 e il 26 quindi ragazzi un luglio veramente intenso per quanto riguarda Fortnite tante le novità che stanno per arrivare che piano piano ci accompagneranno ad agosto che per adesso è ancora il mese dove la season dovrebbe terminare ancora non è comunque confermato il posticipo ma sappiamo che molto probabilmente andiamo avanti fino a settembre e parliamo di un altro argomento perché forse non tutti hanno notato che c'è una porta enorme all'autorità e questa porta al termine della season ragazzi verrà aperta potenzialmente potrebbe venire aperta tra la metà di agosto e la fine di agosto questa immagine che stiamo prendendo direttamente dal gioco è davvero molto molto interessante perché ci fa capire quanto sono alti i muri dell'autorità e quanto si abbasserà il livello si abbasserà ancora ragazzi in modo che pure i veicoli potranno entrarci il che ci fa pensare che magari l'autorità potrebbe essere il punto di spawn ad esempio uno dei punti di spawn dei veicoli già è il punto di spawn dell'elicottero perché non dovrebbe esserlo dei veicoli? ovviamente si preannunciano delle grandi carneficine all'autorità con già tutti che ci droppano dentro figurati la caccia al veicolo iniziale staremo a vedere staremo a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ecco qua invece una bellissima immagine che vi volevo far vedere a dimensione ingrandita guardate che meraviglia la fase finale della mappa ragazzi foresta frignante completamente riemersa tutta la parte di pantano palpitante che in realtà adesso è pozzo traballante completamente riemersa e se non vado errato qua io non vedo la fortiglia vedo ancora l'autorità vedo siepi da grifoglio vedo benissimo la parte alta dove c'è come vedete rapide rischiose che sembra prendere una forma abbastanza particolare mentre un po' più a destra fattoria, foschi, moli molesti, corso commercio, brughiere rimangono tutte abbastanza normali come vedete insomma la mappa torna a come eravamo abituati a vederla all'inizio mentre se facciamo una zoomata in alto a sinistra si comincerà a formare la linea di demarcazione di quella che sarà la nuova location in arrivo e sarà una location dedicata ad Aquaman ho delle foto ragazzi ho delle foto guardate questa quello che vedete qua in alto in realtà non è il cielo ma è il livello del mare se ci andiamo sotto nella modalità replay cominciamo a vedere ben definita tutta la base di quella che si chiamerà The Ruins le rovine arriverà insomma lì Aquaman e tutto quello che riguarda l'evento di Aquaman che ci aspettiamo sia qualcosa di veramente interessante e andiamo a parlare di un altro argomento tanto importante quanto interessante l'emote della Renegade sarà nello shop il 18 luglio di che emote sto parlando? sto parlando di questa ragazzi un emote molto molto carina purtroppo non posso farvi sentire l'audio perché è ovviamente copyrightato ed è un emote che viene come del resto è già successo in altre occasioni presa da un balletto di TikTok l'emote chiamata Renegade l'avevamo già vista spoilerata nell'ultima patch la persona che l'ha creata come vedete è questa simpatica signorina ragazzi se volete ascoltare ovviamente l'audio ufficiale vi basterà andare su TikTok e cercare Renegade Dance se non ricordo male insomma ragazzi anche per oggi io ho un sacco di news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch ciao 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 ciao